Guerra senza fine in Ucraina, bombardamenti continui, mentre il governo di Kiev prepara l'evacuazione di civili dalla ceglieria di Azovstal, due volontari britannici catturati dai russi. Le armi sono una risposta debole, il segretario di Stato Vaticano Parolin richiamando Papa Francesco esorta ad abbandonare lo schema della guerra e a ritrovare una maggiore capacità di iniziativa europea. Addio Green Pass da domenica prossima, ma le mascherine restano ancora fino al 15 giugno, oggi si registrano oltre 58 mila contagi e 133 decessi. Basta morti assurde, il capo dello Stato Mattarella parla di sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoro dice, visitando una scuola di formazione professionale dei Salesiani a Udine, è dignità e spinta alla coesione sociale. Oggi giornata internazionale della danza, un'arte celebrata in tutte le sue forme più espressive, l'ha istituita l'UNESCO 40 anni fa. 18.27, buonasera e benvenuti al TG2000, dunque 65esimo giorno di guerra. L'offensiva russa prosegue colpita una fabbrica di missili sul territorio ucraino. A Kiev iniziano a scarseggiare cibo e acqua. Il servizio di Federico Plotti. La minaccia russa su Kiev è aumentata, studenti, donne e bambini anziani non rientrino in città. L'appello arriva dall'amministrazione militare, a stretto giro dall'attacco missilistico che ieri ha colpito il cuore della capitale ucraina, proprio durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres. Due missili ad alta precisione lanciati da aerei, dice Mosca, confermando l'attacco. Distrutte due fabbriche per la produzione di armi e un sito dell'industria spaziale. Dunque obiettivi militari si affretta a dire il Cremlino. Peccato che uno dei missili ha centrato anche un palazzo residenziale di 25 piani. Una decina i feriti, una vittima. Si tratta della sfortunata Vera Ghiric, giornalista di Radio Liberty ed ex dipendente nell'ambasciata israeliana Kiev, che abitava al secondo piano. Intanto a Mariupol, dove ieri colonne di mezzi e uomini russi sono state viste allontanarsi dalla città, potrebbe scattare a breve un altro ennesimo assalto all'acciaieria Azostal, dove resiste ancora serragliato nei bunker buona parte del battaglione Azov, ultima difesa ucraina della città, insieme a circa un migliaio di civili. Nel frattempo non si hanno ancora notizie dell'operazione annunciata in mattinata da Kiev, per portare in salvo dall'impianto siderurgico il maggior numero di persone possibile. Il cibo e l'acqua cominciano a scarseggiare. Non c'è nemmeno più l'assistenza medica, che veniva garantita dall'ospedale da campo allestito nel complesso, bombardato e distrutto ieri dall'esercito russo. Limitarsi alle armi rappresenta una risposta debole. Il segretario di Stato Vaticano Parolin ritorna a parlare del conflitto in Ucraina, intervenendo alla presentazione del volume del Papa, contro la guerra. Paolo Fucili. L'Ucraina ha diritto a difendersi dall'invasione, lo riconosce, pur a strette condizioni, anche il catechismo della Chiesa Cattolica. Ma quanto a inviare armi a Kiev? Dico soltanto che limitarsi alle armi rappresenta una risposta debole. Riflessioni del segretario di Stato Vaticano, prendendo spunto da contro la guerra, densa antologia presentata oggi a Roma, del Magistero Bergoglio su guerra e pace, inclusi molti recenti appelli che non sono utopia, adverte Parolin. Abbandonare quel che Francesco chiama schema di guerra si può, ad esempio... Spendiamo piuttosto quei miliardi per chi muore ancora di fame e sete, esorta, anche perché le armi di oggi sono così distruttive che parlare di guerra giusta proprio non si può più. Sulla soluzione negoziale alla guerra in Ucraina, Parolin non dissimula pessimismo. Se le due parti continueranno a porre precondizioni al dialogo, Romano Prodi invoca una politica estera e di difesa comune più forte in Europa. Ci vuole più spirito di Helsinki, annota ancora Parolin ricordando la storica conferenza del 75 che avviò il disgelo fra est e dovest dopo decenni di guerra fredda. Ci vuole più partecipazione agli organismi internazionali. E invece, concludi Amaro, era evidente già da anni prima di questa guerra che non si crede più in soluzioni comuni ai problemi. E adesso andiamo a Leopoli dove continuano ad arrivare profughi che scappano dalla guerra. Allora, ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Vito De Torre. A te la linea, Vito. Sì, eccoci in diretta da Leopoli. Oggi nel punto stampa estera allestito presso il municipio di Leopoli siamo riusciti ad entrare in contatto con il sindaco di Mariupol. Agghiacciante quello che ci ha raccontato il bombardamento russo sull'ospedale da campo presso lo stabilimento siderurgico di Azovstal ha causato 600 feriti. Il sindaco di Mariupol ha chiesto urgentemente dei corridoi umanitari per trarre in salvo le persone che hanno trovato rifugio all'interno dello stabilimento siderurgico di Mariupol. Le scorte di cibo e acqua, ha detto il sindaco di Mariupol, potrebbero esaurirsi in tempi brevissimi. Qui a Leopoli hanno trovato rifugio circa 400 mila profughi. Tutti hanno una sistemazione, vitto e alloggio, ma nessuno sa quanto questo sistema può reggere. Gli aiuti umanitari arrivano dalla Polonia, ma anche la Polonia ha grossi problemi perché deve gestire circa 2 milioni di profughi. Allora noi oggi abbiamo seguito la giornata del direttore della Caritas. Davvero un impegno enorme quello che sta sostenendo la Chiesa Cattolica qui a Leopoli. Con questo servizio vi restituisco la linea. Ogni giorno padre Bejeslav percorre centinaia di chilometri per portare aiuti umanitari in tutta l'Ucraina. Va alla frontiera con la Polonia per prendere viveri e medicine, per poi andare a visitare parrocchie, centri d'accoglienza, conventi in Ucraina che danno ospitalità ai profughi. Si ferma a scherzare con i volontari, poi ascolta le preoccupazioni di questa mamma che ha il figlio al fronte. Non ha notizie da qualche giorno. Qui siamo in uno dei 25 centri gestiti da Caritas Pes. Riceviamo ogni giorno grandi quantità di aiuti umanitari dalla Polonia. Il problema ultimamente è che la stessa Polonia fa fatica a trovare le risorse necessarie perché deve gestire a casa sua circa due milioni di profughi. Possiamo solo confidare nella provvidenza. 120 persone vivono qui dall'inizio della guerra. Arrivano quasi tutte dall'est dell'Ucraina. I bambini mi hanno raccontato di aver visto gli aerei da guerra, di aver paura. Molti di loro sanno che i padri sono al fronte per combattere. Sono tutti certi che presto rivedranno i loro papà. Speriamo che sia davvero così. Siamo stati 35 giorni sotto alle bombe. Io e mia madre vivevamo in un bunker ad Irpin. Quando hanno aperto un corredo umanitario verso Leopoli, ho preso con me soltanto i pennelli e i colori perché volevo dipingere le atrocità che ho visto, ma mi sono resa conto che non ce la faccio. Prima di rimettersi alla guida del furgone, padre Vejislav apre una scatola di plastica e ci mostra ciò che rimane delle bombe esplose. Nelle campagne qui fuori ci dice è pieno di questa robaccia. L'ho raccolta perché ne farò dei candelabri da mettere in chiesa. Dopo questa stagione di molte, rivedremo sicuramente la luce. Gli Stati Uniti sono pronti a stanziare 33 miliardi di dollari per rifornire di armi il governo di Kiev. Il sì del congresso americano che ha usato una legge della seconda guerra mondiale per fornire più rapidamente armi all'Ucraina. Ce ne parla Maurizio Dischino. Dopo il Senato, con 417 sì e 10 no, la notte scorsa anche la Camera del congresso americano ha approvato l'eccezionale stanziamento di 33 miliardi di dollari che il presidente Joe Biden aveva chiesto per sostenere l'Ucraina nel respingere l'invasore russo. La rapidità del provvedimento è stata agevolata dall'applicazione di una legge della seconda guerra mondiale, la Landless Act del 1941, la quale consente di fornire armi a qualsiasi governo straniero, la cui difesa sia valutata vitale dal presidente per la difesa degli Stati Uniti. Allora la legge ha permesso agli americani di fornire armi ai britannici per contrastare Hitler. Adesso ha consentito di stanziare 33 miliardi di dollari per l'Ucraina, di cui 20 per gli aiuti militari. Come aveva già anticipato Biden, serviranno soprattutto per inviare ancora più artiglieri, mezzi corazzati, sistemi anticarro e antiaerei. Non stiamo attaccando la Russia, ma stiamo aiutando l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa. Il prezzo di questa battaglia non è basso, ma cedere all'aggressione in corso sarebbe più costoso, ha ribadito il presidente degli Stati Uniti. Sono grato al popolo americano e personalmente al presidente Biden, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, specificando che nel nuovo pacchetto sono previsti più di 8 miliardi di dollari per il sostegno economico. Altri 3 miliardi di dollari andranno agli aiuti umanitari. La stampa americana ha fatto notare che la guerra in Ucraina sta costando agli Stati Uniti più di quella in Afghanistan. Inoltre, il robusto stanziamento è il segno che Biden, nonostante l'economia americana stia dando segni negativi, comunque vuole un approccio sempre più aggressivo nella guerra in Ucraina. Torna il terrore a Kabul. Una potente esplosione ha colpito una moschea nella capitale afghana dopo le preghiere del venerdì, nell'ultimo venerdì di Ramadan. Secondo la tv satellitare Al Arabiya, il bilancio sarebbe di almeno 10 morti e 15 feriti. Secondo alcuni testimoni potrebbe essersi trattato di un attacco suicida. E Londra annuncia esercitazioni militari in tutta l'Europa orientale. Saranno circa 8 mila i soldati britannici coinvolti. Con loro altre migliaia di militari provenienti dai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sarà uno dei più grandi spiegamenti di forze dalla guerra fredda. Cambiamo argomento addio al Green Pass dal 1 maggio. Le mascherine invece dovremo tenerle ancora fino almeno 15 giugno. Intanto il Covid continua a circolare. Caterina Dall'Oglio. Green Pass non più richiesto. È obbligo di mascherine al chiuso prorogato fino al 15 giugno solo per mezzi di trasporto, cinema, teatri, ospedali e scuole. In tutti gli altri luoghi chiusi, pubblici, aperti al pubblico, resta solo la raccomandazione di indossare i dispositivi di protezione individuale. Sono queste le principali novità che entreranno in vigore a partire dal 1 maggio. Sì, sono dell'idea che la mascherina debba continuare ad essere utilizzata negli ambienti chiusi e anche all'aperto dove c'è folla. Io lo farò. Al chiuso, quando ci sono gli assembramenti. Ho già avuto modo di questionare un paio di volte sui mezzi pubblici perché c'è già chi non la usa da tempo. Negli uffici pubblici è raccomandato indossare la mascherina FFP2. Anche dopo questa data è il contenuto della circolare emanata dal ministro Renato Brunetta per regolamentare le pubbliche amministrazioni sulla base delle nuove regole. Nelle aziende private invece saranno i protocolli stipulati tra aziende e sindacati a stabilire le nuove regole sull'uso delle mascherine. Si cercherà di mantenere la protezione anche nei luoghi affollati come supermercati, centri commerciali dove non è possibile mantenere il distanziamento. Secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute riferiti alle ultime 24 ore sono 58.861 i nuovi contagi da Covid-19, 133 i morti. A fronte di 381.239 tamponi effettuati il taso di positività è al 15,4%. Calano le terapie intensive e i ricoveri ordinari. La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in una lettera ai Vescovi Italiani raccomanda di continuare ad utilizzare la mascherina a messa per le prossime settimane. L'andamento dei contagi viene sottolineato, risulta costante da qualche settimana e tale dato porta a confermare le indicazioni della Presidenza contenute nella comunicazione dello scorso 25 marzo. L'uso delle mascherine resta a rigore, raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi. Quasi 350 milioni di persone e 46 città cinesi sono attualmente in stato di lockdown totale o parziale per combattere l'ondata di Covid e della sua variante Omicron altamente contagiosa, una situazione che ha non poche rigatute sull'economia del paese asiatico. Il lavoro è dignità e spinta alla coesione sociale. Sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, oggi in visita all'Istituto Bearsi di Udine. Pierachille Dolfini. Il valore del lavoro per voi giovani e per chiunque non può essere associato a rischio alla dimensione della morte. Il 21 gennaio, al suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro, Lorenzo Parelli è morto colpito da una putrella d'acciaio alla Burimec di Pavia di Udine. Oggi alla vigilia della festa del lavoro del primo maggio, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha voluto visitare l'Istituto Salesiano Bearsi dove Lorenzo studiava. L'incontro con i genitori del diciottenne, un giro nelle officine e nei laboratori dove i giovani imparano un mestiere, poi il discorso ai ragazzi. Accorciare la distanza tra giovani e lavoro è condizione indispensabile di sviluppo e di sostenibilità per l'intero paese, tanto più in presenza di una crisi demografica che ha ridotto in notevole misura la presenza dei giovani nelle comunità. Occorre liberare le giovani generazioni da quegli impedimenti, da quella compressione di energie che molteplici fattori strutturali hanno via via opposto al loro naturale cammino. Mattarella ha lanciato un nuovo richiamo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha ribadito è un diritto, una necessità e assicurarla è un dovere inderogabile, ricordando poi che questo tema sarà il centro della cerimonia del primo maggio al Quirinale. Crescere in qualità significa anche affrontare il tema della precarietà, un problema acuto e una spina nel fianco della coesione sociale. Continuiamo a registrare lavoro irregolare che talvolta varca il limite dello sfruttamento. I carabinieri del comando provinciale di Catania con la collaborazione dell'Inps hanno denunciato 389 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Più della metà erano pregiudicati, alcuni addirittura per reati di mafia. Beatrice Bossi. L'elenco delle dichiarazioni false sono svariate e surreali. C'è chi indica come residenza un cavalcavia o chi vive davvero dentro una casa, ma è agli arresti domiciliari. L'ultima indagine dei carabinieri di Catania ha portato allo scoperto un'enorme quantità di furbetti che per anni è riuscita a percepire il reddito di cittadinanza consegnando falsi documenti. Oltre il 50% delle persone controllate tra ottobre e marzo percepiva indebitamente il sostegno statale. 389 furbetti nello specifico, di cui 191 con precedenti penali, alcune anche per reati di mafia. Le indagini hanno constatato un danno erariale di 3 milioni di euro, soldi che adesso gli indagati, accusati per truffa allo Stato, dovranno restituire. L'Inps proprio ieri ha pubblicato i costi della misura tanto voluta dal Movimento 5 Stelle, quasi 10 miliardi all'anno e alla sola provincia di Napoli arriva tanto quanto tutto il nord Italia. A marzo ne hanno goduto 2 milioni e mezzo di persone, l'importo medio è stato di circa 550 euro. Nato come strumento attivo di sostegno sociale, il reddito di cittadinanza è diventato di fatto un aiuto passivo di contrasto alla povertà. Dal 2019 sopravvive, tra mille polemiche, gli stessi navigator che dovrebbero trovare lavoro ai disoccupati oggi infatti rischiano di finire per strada. I loro contratti si rinnovano di mese in mese, proprio ieri l'ultima proroga. Al via Roma extra libera, una due giorni di lavoro e di confronto per fare il punto sullo Stato della lotta alle mafie e alla corruzione nel nostro paese. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo. Mentre assistiamo alle mutazioni del Covid e dubitiamo della efficacia dei vaccini, c'è una nuova variante, silenziosa, costante, che da due anni sta infettando il tessuto economico e sociale del paese. Libera propone come cura per questo nuovo virus la variante criminalità, le mai sconfitte mafie da 150 anni e non solo. Libera extra, due giorni di contromafie, oggi e domani, in 12 luoghi diversi della capitale. Danando dalla chiesa il già procuratore antimafia Federico Caffiero de Rau, il meglio dell'Italia dei cento passi, si è riunito intorno a Don Ciotti e ai suoi mille ragazzi. Su questi temi il paese è andato verso la normalizzazione, è diventato uno dei tanti problemi, parla di droga, uno dei tanti problemi, dell'usura, dell'ecomafia, dell'agromafia, del gioco d'azzardo, che invece abbiamo delle leggi ambigue, leggi che non funzionano come dovrebbero funzionare. Abbiamo toccato con mano delle complicità. La variante criminalità sta offrendo incredibili occasioni di guadagno, le nuove mafie sono imprenditoriali, flessibili, capaci di legarsi in network, che usano tutto il meglio della tecnologia. Prima le ha aiutato il Covid e ora la guerra. E anche la politica sembra incapace di difendersi dall'inquinamento della corruzione mafiosa. Se abbia inquinato di più, questo ancora non lo possiamo sapere, che i rischi siano molto aumentati, questo è certo. Quindi bisogna tenere gli occhi molto aperti, soprattutto pensando ai soldi che arriveranno per i nuovi lavori pubblici, per il piano di recupero, di ricostruzione, di resilienza. Non si può stare indifferenti ad agire soltanto di scartoffie. Non solo il PNNR sotto osservazione, ma tutto il pacchetto di fondi proveniente dall'Europa. Gli Stati sostengano una società amica della famiglia, lo ha detto Papa Francesco alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Nicola Ferrante. Una società amica della famiglia è possibile, parola di Papa Francesco che nonostante il dolore al ginocchio non lo abbandoni, ha ricevuto stamattina nella Sala del Concistoro i partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. La famiglia dice un valore da vivere come bene relazionale e non in modo privatistico, prospettiva che rischia di far perdere le funzioni sociali, specialmente nei riguardi dei più deboli. Sappiamo che i cambiamenti sociali stanno modificando le condizioni di vita del matrimonio e delle famiglie in tutto il mondo. Inoltre, l'attuale contesto di crisi prolungata e molteplice mette a dura prova i progetti di famiglie stabili e felici. A questo stato di cose si può rispondere riscoprendo il valore della famiglia come fonte e origine dell'ordine sociale. Famiglia come luogo d'accoglienza, prosegue Francesco, che mette in guardia dall'inverno demografico e dall'irresponsabilità della maternità e della paternità. Il Papa esorta a togliere la cataratta delle ideologie che impediscono di vedere la realtà riscoprendo la corrispondenza fra matrimonio naturale e sacramento. È necessario che in tutti i paesi siano promosse politiche sociali, economiche e culturali, amiche della famiglia. Lo sono per esempio le politiche che rendono possibile un'armonizzazione tra famiglia e lavoro, politiche fiscali che riconoscono i carichi familiari e sostengono le funzioni educative delle famiglie adottando strumenti appropriati di equità fiscali. Presente anche il Premier Draghi dopo la recente guarigione dal Covid, a lui il Papa al termine rivolge un saluto particolare. Papa Francesco chiede alla Commissione per la tutela dei minori incaricata di portare avanti la lotta agli abusi nella Chiesa di stilare ogni anno per lui un rapporto sullo stato della situazione. Nell'udienza alla Commissione, che con la riforma della Curia è stata inserita nel di Castero per la dottrina della fede, il Pontefice ha esortato anche ad aiutare le conferenze episcopali a realizzare più centri per l'ascolto delle vittime. Due ricercatori della specola vaticana, l'osservatorio astronomico della Santa Sede, hanno proposto una comprensione matematica radicalmente nuova del momento iniziale del Big Bang, indicando una nuova tecnica per capire come la gravità si è comportata nei primi istanti dell'universo. Questa nuova prospettiva potrebbe portare a una rivoluzione nella nostra comprensione dell'universo primordiale, spiegano dall'Istituto. Campioni del tennis che hanno fatto sognare l'Italia con la vittoria in Coppa Davis negli anni 70. Dal 2 maggio al cinema, il docufilmo Una Squadra, l'intramontabile Adriano Panatta, si racconta tra pubblico e privato questa sera a Effetto Notte alle 22.50, sempre su TV 2000. Vediamone un'anticipazione con Fabio Falzone. Il romano, il ciuffo, un bel ragazzo. Quando lo vedo che ancora fa così e io non lo posso più fare, tu capisci che... Un'esplosione anche di creatività nella musica, nell'arte, nel cinema. furono anni importanti, secondo me. E noi facciamo parte di quella storia lì, di quegli anni lì, che insieme hanno fatto... che giocavano benino a tennis, questo lo dico sempre. Però al di là di questo qui, qui esce fuori quello che eravamo noi, quello che erano i nostri rapporti interpersonali, quello che erano i rapporti con il nostro capitano, che era Nicola Pietrangeli, e viceversa. Cioè, ne esce fuori una cosa, secondo me, molto divertente. Un colpo di panatta questo, l'ho detta la Veronica, per questa effettuazione della volei alta di rovescio, che sa chiudere nella parte opposta, imprendibile per l'avversario. Adesso la tua vita, se te lo posso chiedere, com'è? Sembra anche molto nipotini, insomma, ma comunque... Beh, io sono un po' assente come nonno, perché abitiamo in città diverse, per cui li vedo ogni tanto. Però sono pazzo di loro, come tutti i nonni che sono... Soprattutto chi diventa nonno, no? Quando uno diventa nonno cambia un po' la vita, perché tante cose che non facevi con i propri figli, lo fai con nipotini. Poi essere nonno è molto più comodo che essere padre, perché poi stai con nipotini, divizi, e poi dopo te ne vai a casa, e invece i nipotini vanno con i loro genitori, per cui è tutto vantaggio. Un tribunale britannico ha condannato l'ex campione di tennis Boris Becker a due anni e mezzo di prigione per bancarotta. Becker, 54 anni, è stato giudicato colpevolo di quattro capi di imputazione, tra cui l'occultamento di due milioni e mezzo di sterline, per evitare il pagamento dei propri debiti. Ora il meteo e poi la messa, prossimo Tg alle 20.30. Buon proseguimento, a più tardi. Grazie a tutti.